Se ci pensate, guadagnare giocando è sempre stato un tabù, ma oggi con l'avvento dei giochi in blockchain è ancora più semplice farlo. Ciao, io sono Tommaso Branchi e su questo canale parlo di finanza e crescita personale e se anche tu sei interessato a questi argomenti, lasciami subito un like per aiutarmi nella mia strada su YouTube. Recentemente sono stati realizzati moltissimi giochi basati su tecnologia blockchain che permettono all'utente di guadagnare tramite crypto ed NFT. Piccola parentesi, se non doveste sapere cosa siano gli NFT, ci ho realizzato un video molto approfondito che vi lascio nelle schede. Tornando a noi, questi giochi sono i cosiddetti play to earn, che permettono di guadagnare semplicemente giocando, portando a termine degli obiettivi, scalando le classifiche o vendendo gli NFT stessi. Questi guadagni dovranno poi essere depositati da qualche parte. Qui entrano in gioco i portafogli di criptovalute, come Metamask, che in questo ambito è il più usato e che può essere utilizzato sia su dispositivi mobili che su PC in modo gratuito. All'inizio di quest'anno moltissimi giochi play to earn hanno permesso ai loro giocatori di guadagnare cifre folli. Attenzione però, perché questo era dovuto solamente all'entusiasmo generale dovuto a quel momento. Vediamo quindi ora 5 dei migliori play to earn. Axie Infinity è un gioco per computer simile a Pokémon, basato però su blockchain. All'interno dell'universo Axie Infinity ci sono due modi principali con i quali poter guadagnare denaro. Il primo è allevando e vendendo Axies, gli NFT del gioco simili ad animaletti domestici. Il secondo è giocando e guadagnando Smooth Love Potions, anche dette SLP, tramite la modalità avventura che consente di guadagnare un massimo di 100 SLP al giorno, oppure tramite la modalità Arena che non ha limiti di guadagno. Inoltre più giocherete maggiori saranno le missioni che porterete a termine, missioni che vi faranno guadagnare anch'esse degli SLP che potranno poi essere convertiti in euro. In questo gioco è possibile allevare Axies nel vero senso della parola, farli accoppiare per dar vita ad un nuovo animaletto con caratteristiche uniche ed in base ai tratti e alle sue particolarità gli verrà assegnata una rarità. Ovviamente più questa sarà alta, maggiore sarà il guadagno dalla sua vendita. Esiste un'altra tipologia di token, la XS, Axie Infinity Shards, un token nativo e di governance che permette a chi lo possiede di votare su decisioni come lo sviluppo della piattaforma e la distribuzione dei fondi. Tetan Arena è un gioco MOBA, acronimo di Multiplayer Online Battle Arena, basato su blockchain che può essere scaricato su Android, su iOS e su Windows. Le modalità di gioco come la grafica ricordano molto Brawl Stars, con la differenza che qui ogni personaggio è un NFT e che giocando in singolo o con un gruppo di amici potremmo guadagnare denaro basandoci esclusivamente sulle nostre abilità individuali, esse in team anche sulla coordinazione. Tutti i guadagni saranno sotto forma di THC, il loro token che poi potrà essere convertito in euro. Ci sono tre tipologie di personaggi, quelli comuni, quelli epici e quelli leggendari. Quelli epici e quelli leggendari possono essere acquistati come NFT e ci faranno guadagnare dei THC ogni partita, a prescindere dal suo risultato, mentre quelli comuni ci faranno ricevere dei Tetan Coin solo in caso di vittoria. Un altro metodo di guadagno in Tetan Arena è quello di vendere il proprio personaggio NFT, potendo arrivare anche a cifre assurde. CryptoBlade è un gioco di ruolo NFT basato su un sistema di ricompensa dinamico che distribuisce gettoni skill ai giocatori che completeranno le sfide di gioco sconfiggendo potenti nemici. Inoltre i giocatori hanno la possibilità di migliorare la propria esperienza di gioco e guadagnare più gettoni, assumendo nuovi personaggi aggiuntivi e forgiando armi uniche che consentono di avere un enorme vantaggio sui nemici. Qui, come per Axie Infinity, i giocatori potranno migliorare armi e personaggi così da metterli successivamente in vendita su un mercato aperto. Splinterlands è il gioco adatto a tutti gli appassionati di giochi di carte collezionabili, che siano fisici come Yu-Gi-Oh! e Magic o virtuali come Hearthstone. Su Splinterlands i giocatori potranno raccogliere, scambiare e far combattere oggetti da collezione digitali. Il bello è che essendo ogni carta un NFT, il suo possessore potrà sempre sapere quante copie esistono di quella stessa carta e qual è il loro storico di valore. Appena inizierete la vostra avventura, vi sarà fornito un set base di carte e potrete subito effettuare degli scontri in modalità normale o classificata. In quest'ultima i giocatori potranno vincere cristalli Dark Energy, ovvero una criptovaluta che potrà poi essere scambiata con altre cripto o con valute fiat, come ad esempio l'euro. Inoltre ci sono altre ricompense di gioco, come nuove carte di varia rarità e pozioni magiche, che possono essere ottenute con tornei o portando a termine delle missioni. Come per gli altri giochi, anche questo permette un guadagno tramite la vendita delle carte in base alla loro rarità sotto forma di NFT. Super Crypto Kart è un gioco di corse in stile Mario Kart disponibile per Android, Windows, Mac e Linux, che permette ai giocatori di guadagnare criptovalute con le vittorie in base al modello del kart che viene scelto. Ogni tema del Go Kart, infatti, determina quale moneta otterremo, come ad esempio Bitcoin, Libra, Ethereum, Chainlink e altri ancora. È possibile giocare PVB, player vs bot, per giocare in modo meno impegnativo o semplicemente per allenarsi, senza però un ritorno economico. Oppure PVP, player vs player. In questa tipologia si scommette tramite la valuta proprietaria del gioco, Chain Games, ed il vincitore si terrà tutto il bottino. Altre modalità di gioco molto carine sono il cattura alla bandiera e la Rocket League. Per poter giocare a questi giochi, come per tutti gli altri di Play to Earn, è indispensabile avere un wallet cripto. Qui avete l'imbarazzo della scelta, ma il più utilizzato, come vi ho già anticipato, è Metamask. Metamask è disponibile sia su PC che in versione mobile. Nel primo caso vi basterà scaricare la sua estensione per browser, mentre sugli smartphone vi basterà recarvi nell'App Store o nel Play Store e scaricare la sua applicazione. Per acquistare criptovalute su Metamask potete procedere in due modi. Comprarle direttamente su Metamask con carta di credito o debito, oppure affidarvi ad un exchange esterno, come Binance, Coinbase o Crypto.com, e poi inviarvi fondi su Metamask. Ovviamente in questo caso dovrete registrarvi su queste piattaforme. Una volta che avrete effettuato i vostri primi guadagni tra i vari Play to Earn, per poterli ritirare dovrete inviarli da Metamask ad un exchange, come quelli citati precedentemente, e da lì inviarli sul vostro conto. Il video termina qui, lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!